Ragazzoli miei, io sono Nevermind e benvenuti in questo nuovo video su Elder Ring. Oggi vi mostro dove ottenere l'arma leggendaria Spadone dell'Ordine Aureo. È possibile ottenere quest'armamento unico esplorando la parte nord-ovest della vetta dei giganti. Questa zona della mappa non è accessibile da subito, ma solamente tramite il grande montacarichi di Rod, utilizzando il ciondolo segreto del Sacro Albero. Questo oggetto unico, come altri ciondoli, è diviso in due parti e si possono ottenere in queste due location che vi lascio a schermo. Una volta che avrete avuto accesso a questa parte della vetta, dirigetevi verso il fiume che la taglia a metà e tenendo alla destra avvicinatevi alla caverna dei Desolati. Questo dungeon sarà protetto da questo polpo gigante che sicuramente avrete già incontrato, nulla di problematico, e saranno richieste per entrare ben due chiavi della spada di pietra. Una volta entrati avrete davanti, secondo me, una delle grotte più belle da esplorare in questo punto del gioco, ma è anche una delle più labirintiche. Difatti tutto questo dungeon non vi regalerà chissà quale loot, troverete qualche runa e oggettini vari, ma se trovate il passaggio segreto tra i ghiacci, questo vi condurrà al livello inferiore. È la zona che dall'alto, quando eravate, diciamo, sul piano superiore, potevate vedere attraverso il pavimento. Qui in basso avrete accesso alla boss fight conclusiva. Come al solito, io non ve la spoilero, ma sappiate che non è assolutamente nulla di complicato da superare. Una volta conclusa, il vostro premio sarà lo spadone dell'Ordine Aureo. Quest'arma leggendaria scala E in forza, D in destrezza e C in fede, rendendola effettivamente un ottimo pezzo di equipaggiamento per le build fede-forza o fede-destrezza. Oltre al danno fisico, questo spadone è in grado di infliggere un elevato danno sacro. A rendere unica quest'arma, oltre il suo design veramente stupendo, è però la sua abilità. Ritorno all'Ordine vi farà sollevare l'armamento, generando un'esplosione dorata intorno a voi, in grado di danneggiare nemici nelle vicinanze, e se si preme poi di nuovo il tasto dell'abilità, l'arma sarà in grado di sparare quest'onda di energia dorata, capace di passare più di un nemico e di infliggere un danno elevato. Il raggio arriva a media distanza e ha un hitbox veramente molto grande. Quest'abilità vi risulterà particolarmente utile nelle situazioni dove si ha desvantaggio numerico, dove avete un grosso numero di nemici davanti a voi. Prendendovi però i dovuti tempismi, dato il suo cast time non così veloce e immediato. Bene ragazzuoli, vi ho mostrato dove ottenere lo spadone dell'Ordine Aureo. Vi ripeto, è un'ottima arma per le build che si focalizzano sulla fede, magari mettendo un pochino di forza e destrezza. Lo sto utilizzando anche io in quest'ultimo periodo e mi ci trovo abbastanza bene. È molto divertente da utilizzare, non sarà una delle armi più rotte all'interno del gioco, però la sua abilità unica la rende veramente forte e di base come arma forza o destrezza con fede non è così male. Fatemi sapere la vostra opinione se lo state utilizzando tramite un commento. Io come al solito spero di esservi stato utile, in tal caso magari lasciate un like e prendete in considerazione anche l'iscrizione a questo canale. Vi ricordo che c'è il gruppo Telegram attivo, siamo saliti tantissimo, dove potete partecipare, chiedere aiuti e chattare anche con gli altri ragazzuoli. Ovviamente tutto spoiler free. Noi ci vediamo questa sera alle 8 e mezza con il continuo della live di Elden Ring. Io vi abbraccio fortissimo per i 30k raggiunti su YouTube. Io ero Nevermind, al prossimo video ragazzuoli. Ciao ciao! Ciao ciao!